L'obiettivo è quello di approfondire temi di natura ambientale come la Green Economy attraverso diversi linguaggi della comunicazione contemporanea, dalla politica all'arte passando attraverso la scienza fino ad arrivare alla musica e al cinema. Come è strutturato questo festival? Ma è un festival dalle due anime, una professionale legata all'internazionalizzazione, quindi a tutti gli aspetti economici legati all'ambiente, che è quella diurna, e una invece notturna, serale notturna, che si occupa di arte, nel senso che fa sì che l'arte interpreti il nostro rapporto con l'ambiente, che è un rapporto complesso, un rapporto stratificato, che prevede livelli diversi e che tramite l'intervento artistico, l'interpretazione artistica, assume nuovi significati. Qualche evento? Ci saranno, innanzitutto, una videoinstallazione che è collocata nella torre interna della biblioteca dei Gemmis, dove avviene il tutto, e poi ci si siederà in sala per assistere ad una serie di proiezioni con formati assolutamente diversi tra di loro, nel senso ci saranno pezzi di film, ci saranno video musicali, ci saranno opere di videoarte, ci saranno documenti. Parliamo di Ambientarti, il primo festival ecologico pugliese, che si svolgerà dal 25 al 27 gennaio, nella sede della biblioteca De Gemmis, nel borgo antico del Capoluogo. L'evento è organizzato da Telebari con il sostegno della Regione Puglia. Ambiente e sviluppo, due temi che si coniugano. Sì, noi stiamo costruendo una strategia che è legata alla Green Economy. Noi pensiamo che la Puglia possa essere un hub energetico strategico importante, ma ha un patto che si costruisca una strategia dello sviluppo legata alla decarbonizzazione. Su questo continueremo a investire. Grazie. Grazie. Grazie.